Bentornato nel mio canale news. Ultime notizie aggiornate oggi Mentre Francesco Totti non nasconde più l'interesse per Noemi Bocchi, che si vocifera sia addirittura incinta dell'ex capitano giallorosso, anche Hilary Blasi sarebbe pronta a voltare pagina Secondo alcuni gossip starebbe frequentando un vecchio amico, molto diverso dall'ex capitano Punto a fare la parte della moglie tradita La conduttrice dell'isola dei famosi non ci pensa proprio, e un nuovo amore potrebbe essere l'opportunità per chiudere definitivamente con il passato e pensare alla sua nuova vita Non si parla altro che di questo su giornali e siti web. Hilary si starebbe frequentando con un vecchio amico che forse è diventato qualcosa di più Sarebbe stato lui a averla confortata subito dopo l'annuncio della separazione In questo ultimo mese è lui che consola Hilary Blasi, in modo amichevole, dopo la separazione con l'ex marito, riferisce la pagina social dedicata ai Gossi e People Hilary Blasi, pronta a voltare pagina. Una vecchia conoscenza romana A stare vicino alla conduttrice dell'isola dei famosi, sarebbe il pr romano Cristiano Iovino, che con Totti ha ben poco in comune, fisico palestrato, corpo quasi completamente ricoperto di tatuaggi, riccioli ribelli e sguardo da latin lover A riferirlo la pagina social i People, secondo cui i due sarebbero molto vicini e la conoscenza sarebbe iniziata in tempi non sospetti, visto che Iovino in passato sarebbe stato amico di Totti Secondo qualcuno addirittura Cristiano sarebbe sulle Dolomiti, dove si trova in questi giorni Hilary, proprio insieme alla conduttrice bionda, che continua a viaggiare per tenersi lontana il più possibile dal clamore mediatico, che la rottura con Francesco ha scatenato Il nome di questo ai tanti ragazzo non è però sconosciuto ai più Tra i commenti sotto la notizia, appare quello di un utente che racconta, questo tizio lo aveva usato, a livello mediatico, anche Giulia De Lellis per deviare l'attenzione dalla vera persona che allora stava frequentando Parole che hanno fatto nascere molti dubbi visto che fino a questo momento non c'è nessuna certezza di questa frequentazione Punto nel frattempo Noemi Mentre tutte le attenzioni sono concentrate su Hilary che si sta godendo le vacanze in montagna, a pochi chilometri da Sabaudia, dove Totti e Hilary hanno la casa al mare, passa le sue vacanze Noemi Bocchi Nessuna dichiarazione vita molto ritirata tra ombrellone e bagnasciuga, per quella data da tutti come la nuova compagna del pupone Anche in questo caso però, come per Hilary, molti gossip ma nessuna immagine dei due insieme Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra, ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità Arrivederci, ci vediamo al prossimo video